Ok, qui ho finito di dare il gesso, ieri, questa mano che vedete di rosso, è gesso rosso colorato da me e adesso con questa carta vetrata molto fine liscio un pochino la superficie, così la sto preparando per poi per la doratura. In questo modo cerco di andare a eliminare le imperfezioni del gesso, proprio come potete vedere una lisciata generale che serve per togliere un po' le gocce del gesso, certe puntine che si sono formate e poi ottenere come vedete qua una superficie molto liscia, al tatto si sentirebbe proprio.